Cosa è la città di Riminese? Cosa è la città di Riminese? Bisogna dare più autonomia ai comuni, autonomia organizzativa, fiscale, se paghi le tasse qua è bene che i comuni abbiano le entrate delle tasse per rispondere meglio ai servizi dei cittadini in un patto col governo centrale. Lo diciamo da Riminese che è una città che sta cambiando e questa è una grande occasione per mettere al centro la nostra città di un palcoscenico nazionale e internazionale, tant'è che centinaia sono i giornalisti che potranno vedere anche i nostri cantieri.